Siamo pronti? Pronte squadre? Fatemi sentire! Sì! 3, 2, 1, via! Partite ufficialmente le prime tizoccherie! E tutti che si lanciano sul pietro... Sì, scudiamo! Io vi voglio prendere patate per questo chef in bianco... Non vale a portare il potere di bianco, però... Siamo! Sì, sì, bui! Bravo! Il bambino è tutto! Il bambino è tutto! Il bambino è tutto! Il bambino è tutto! Sì, stiamo! Sì, stiamo! Sì, stiamo! Ma più o meno che non fanno la coprina... Stasera! Sì, stiamo! Siamo già pelando le patate con il pan! Benissimo, benissimo! Siamo organizzatissimi e tantissimi! Quindi ce ne sono già due in ammollo? Sì! Terza! E quanto dovete pelarne? Ne peliamo sei! Sei! Perché avete calcolato di fare i prodotti per quanto? Per quindici persone! Sì! 15 persone e vediamo quanta farina! Voi come avete fatto? Che proporzioni avete con le farine diverse? Un terzo di bianco! Un te! Non si scherza! Anche lì sono da via! Vai! Che Presidente! Un vaccino! Non voglio da dire niente di più! Le abort! Le abort! Questa cosa qua stanno operando le patate. Scelta il nome? Aimone. No, un po' più grossi. Più grossi? Sì, sì, sì. Non deve essere la tettina, deve essere il pezzo. Ti faccio vedere. Così e così. Passo. Passo. Anzi, io preferisco più grosse ancora. No, dopo se le altre sono fine vuoi fare. Ecco. Maria Grazia, per favore. Metto tutto in acqua. E' un po' più grossi. 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 Vai! Da tanti anni che... Per ora, per ora, che sono ancora giovane. E' un po' di gavetta. Ma guarda che dopo aver partecipato alla pizzoccheria di secondo me, arrivi a riveliatissimo e parte la Stella Michelin. Speriamo, speriamo. Per l'Albrici. Per l'Albrici Stella Michelin sarebbe bello. Sarebbe una bella idea, certo. Sarebbe una bella idea. Sarebbe un po' di giovani. Sarebbe un po' di giovani. E' un po' di giovani. Sì, senti, metti a fare pubblicità e basta! Rip, pip, pip, urrà! Rip, pip, pip, urrà!